Eccoci qua, tornati, pronti per un altro appuntamento di Zona Gold del resto il sabato a quest'ora, all'ora di pranzo, è sempre il momento del calcio dei direttanti qua su Teleiride, come sempre cavalcata dalla Serie D fino alla seconda categoria ma insomma ormai lo sapete e sapete anche che dedichiamo un grande spazio, una grande attenzione al calcio femminile, in particolar modo a Fiorentina, Women's e Florenzia che sono le nostre massime rappresentanti nel movimento calcistico femminile quindi insomma Milita non è il campionato di Serie A ma diamo uno sguardo anche alla Serie B del calcio delle donne sto usando il plurale perché ovviamente sono in compagnia del grande Dario Baldi Ciao Fabio, buongiorno a tutti, ovviamente mettetevi a sedere, siamo pronti a cominciare il nostro cavalcato una cavalcata che oggi facciamo io e te, te e io, una coppia di fattori un tetto a tetto ma non perché ovviamente ci piace non avere nessuno quanto perché vogliamo spiegarvi a fondo quello che sta succedendo in quanto stanno finendo tutti i campionati è vero, un ospite attrae di più chiaramente però è giusto anche prenderci un pochino di tempo perché spesso corriamo e quindi abbiamo deciso di fare questa puntata un po' celebrativa di tutto quello che succede ovviamente dalla Serie A famiglia fino ad arrivare a quella che è la seconda categoria Gironemme passando anche per la Lanciotto Campi è vero passando per il Cascina per la Coppa passando per la Coppa, passando per il Trofeo delle Regioni ma partiamo ovviamente insieme da quello che è successo anzi da quello che succederà perché il calcio femminile si è fermato certo e ritornerà quest'oggi ritornerà con una Fiorentina che sta rincorrendo nuovamente la Juventus dopo tutto quello che è successo un derby vinto per 4 a 2 un'orobica Bergamo da affrontare Cincotto ha detto voglio usare tutto il mio roster infatti vedremo sicuramente qualche ragazzina l'aveva già detto di utilizzare anche quelle più forti infatti mi aspetto domani una Martina Fusini in difesa mi aspetto una Sofia Congulini anche se l'abbiamo vista in Champions ovviamente in campo mi aspetto tante giovani chissà se importa ci sarà Noemi Fedele chissà se ci sarà D'Azzurra Monreale e chissà se Cincotto si renda veramente tutto il suo roster a partire da quella primavera che comunque sta facendo molto bene la Florenzia invece ormai a compianato chiuso è di diciamo distanza contro il Sassuolo nelle mura dello stadio Fabio Bresci di Rufina perché ormai sappiamo che la Florenzia è itinerante Del Buffa gioca ora alla Rufina classifica con Juve 50 Fiorentina 49 Milan 48 Roma 35 Atalanta 30 Sassuolo 29 Florenza 26 Tavanneacco 24 Chievo 17 Elas 16 Pink Bari 14 Orobica Bergamo 5 punti in tutto questo invece andiamo a guardare ovviamente non abbiamo la classifica ma ce l'ho io la Serie B perché cosa è successo? è successo che l'Empoli l'ultima giornata quindi due settimane fa aveva vinto 3-0 sull'Arezzo nel derby toscano e invece affronterà sempre quest'oggi il Milan Ladies in casa tra le mura diciamo amiche del centro sportivo di Monteboro centro ovviamente bellissimo un campo sintetico splendido che poi è quello che ospita gli allenamenti della prima squadra anche le partite della primavera ricordiamo diciamo è un centro sportivo a tutti gli effetti a proposito centro sportivo anche guardando in casa Fiorentina chissà se veramente verrà fatto nella mia Campi Bisenzo nell'area intorno a un noto centro benessere e davanti alla nota Villa Montalvo comunque Inter ha già vinto il campionato con 54 punti Lempoli Ladies 40 Ravenna Women 37 Fortitudo 34 Roma 34 Lady Grata 27 Lazio Women 22 Milan Ladies 21 Cesena 17 Genova Women 14 Larezzo si deve salvare a 11 punti Roma decimo quarto a 0 allora in tutto questo ovviamente io faccio un augurio a venire mercoledì alle ore 15 allo stadio Bozzi delle due strade tu ci sarai io ci sarò perché ovviamente come televisione commenteremo ufficialmente la partita tra Fiorentina e Roma una partita che la Fiorentina ha bisogno e vuole vincere assolutamente perché? perché deve qualificarsi alla finale di Coppa Italia Coppa Italia vinta una volta dalla squadra di Sandro Bencucci perché qualche trofeo nella diciamo tribunetta dei trofei viola c'è e per fortuna li porta la squadra femminile che noi seguiamo quindi tutti allo stadio Bozzi di Firenze mercoledì alle 15 per Fiorentina-Roma stessa sfida che poi ritornerà a esserci anche sabato e che anche quella seguiremo sempre qui sul 96 diciamo abbiamo parlato ampiamente di calcio femminile e diciamo è arrivato il momento di passare a vedere ciò che è successo in Serie D con l'Aquila Montevarchi che è caduta in casa contro il Forte Querceta il Canara che ha vinto per 1-0 contro il San Gimignano Sport un San Gimignano quasi retrocesso il Gavoriano sconfitto da una pianese sempre più prima il Ponsacco invece pareggia 0-0 nella sfida importante contro il San Donato Tavarnell Sera Vizzaporsi vincitore per 3-0 sulla San Giovannese la Sinalunghese perde 4-1 con il Prato Tutto Cuoio 0-0 con il Trestina il Vareggio invece cade contro la Gianese per 3-0 ovviamente 4 giornate da giocare quindi 12 punti in Plalio questa è la classifica Pianese 66 Ponsacco 61 Seravezza 59 San Donato 59 Montevarchi 58 Gavorano 56 Ghiviborgo 54 Tutto Cuoio 52 Prato 50 Cannara 47 Trestina 46 San Giovannese 44 Aglianese 43 Bastia 41 Real 40 ovviamente salutiamo Marco Brachi noi ti fiamo per lui Scandicci 37 anche se c'è questa lotta con Davide un abbraccio a Marco Brachi va dato Viareggio 34 Sinalunghese 29 San Gemignano 28 Massese 15 in tutto questo Aglianese si gioca a 5 punti dallo Scudetto si gioca praticamente un mezzo passo verso la gloria perché praticamente a 5 punti andrebbe diciamo a 8 dalla zona viva Prato Ponsacco Real Forte Querceta Tutto Cuoio San Donato Gavorrano San Giovannese Cannara Scandicci Ghiviborgo Trestina San Gimignano diciamo la Serie D ha tanto da legalarci questo weekend con un occhio a San Donato San Donato che il presidente proprio ha diciamo mandato un saluto nella giornata di domenica che il nostro amico Gabriele Fridanelli ci ha diciamo subito riportato sulle colonne di Sportianti ed è stato il saluto fatto al Grassina esatto perché cosa è successo alla Strasigna il Grassina cosa è successo il Grassina ha vinto con un rigore per 1 a 0 dove praticamente si è giudicato il campionato di eccellenza e quindi il prossimo anno si va in Serie D dove ci sarà il San Donato che però forse potrebbe anche starci un miracolo nei playoff tra l'altro giusto per andare poi a usare anche i termini corretti noi spesso usiamo il termine scudetto di Serie D per la Pianese perché ovviamente è un campionato di semiprofessionisti esatto è un campionato di semiprofessionisti è il massimo campionato per quanto riguarda poi quella che è la Lega Nazionale di Lettanti ovviamente ricordiamo che poi l'appuntamento con i playoff scudetto ci sarà solamente una volta finita la stagione regolare finiti anche i playoff gli scontri dei playoff perché lo scudetto poi vedrà tutte le prime contendersi veramente il titolo di migliore squadra della Serie D per l'altro l'anno scorso se non sbaglio titolo che andò alla propatria dove ci giocava Mario Alberto Santana comunque guardando ovviamente zona playoff playoff Ponsacco Seravezza Sandonato e Montevarchi nella zona playoff attiva con invece nella zona playoff Real Forte Querceta Scandici Viareggio Sinalunghese San Gimignano Sport e Massese occhio alle forbici invece io vado in eccellenza eccolo qua grazie a Manuele avevo visto partire una classifica eccola qua classifica di eccellenza perché cosa è successo partiamo da qui anzi proprio dalla classifica Grassina 74 Poggi Volzi 69 Collegiana 61 Fortis 58 Badesse 47 Regnanese 45 Valdarno 43 Zenit 43 Baldaccio 39 Lastergiana 37 Antella 36 Signia 29 Foiano 28 Protovecchio 27 Castaglionese 24 Bucinese 15 Che è successo? Badesse Porta Romana 3 a 2 nonostante questo Calderini si salva nuovamente Baldaccio Bruni sconfitto dalla Zanita Audax per 3 a 2 La Collegiana batte 3 a 2 il Signia e mette diciamo nei guai la squadra giallo-blu Fortis Juventus vincitrice con 1 a 0 sulla Regnanese ma potrebbe non bastare Lastergiana Grassina 0 a 1 l'abbiamo detto il Poggi Bonzi vince contro il Foiano ma le giornate ormai sono spacciate uomini in giallo-rosso Protovecchio vincente sul Bucinese già retrocessa e quindi lo rilancia il Protovecchio Valdarno sconfitto 0 a 1 dalla Castiglionese Antella riposa ovviamente all'aria era diciamo dormiva su due cuscini in tutto questo prossimo turno che si giocherà ricordiamolo tra due settimane con Antella Baldaccio Bruni Bucinese Poggi Bonzi Castiglionese Colligiana Grassina Valdarno Fogiano Fortis Juventus Porta Romana Lastrigiana segna Protovecchio Zanita Audax Badesse ma tanto ne possiamo parlare anche settimana prossima perché tanto c'è tutto quello che succederà nel mondo del trofeo delle regioni ovviamente do uno sguardo anche alla zona play out che me la sono segnata sul mio smartphone ok come sei britannico sono molto britannico con la zona diciamo play off attiva secondo me non ne faranno tutti come l'aveva detto il nostro Alari forse ce ne potrà stare uno perché Poggi Bonzi e Colligiana sono lì quindi ci potrebbe essere questa e la Fortis forse potrebbe essere però forse forse c'è una giornata chissà noi speriamo di no anzi perché ovviamente abbiamo anche il cuore che batte verso la società io io personalmente lo posso dire ma sicuramente abbiamo grande simpatia per la società mugellana perché ci piacerebbe vederle ovviamente tornare ai fasti e quindi speriamo che non esistano forbici per la società mugellana chi invece potrebbe non cadere nella forbice è tutto quello che c'è nel mondo dei play out perché c'è Signa 29 Fogliano 28 Protovecchio 27 Castiglionese 24 quindi praticamente potrebbero svolgersi entrambi con il play out che si gioca il 5 di maggio quindi la settimana dopo semplicemente la settimana successiva io scorro rapidissimo aspetta perché alcune precisazioni hai parlato ovviamente del torneo delle regioni poi magari approfondiamo anche i temi andiamo a vedere anche contro chi giocherà la Toscana io voglio però ricordare che appunto dal 14 al 19 aprile si svolgerà il torneo delle regioni appuntamento che torna anche quest'anno in questa edizione 2019 che se non sbaglio è la numero 58 una edizione ovviamente importante anche per come dire avvalorare ancora la qualità del calcio toscano che tutti gli anni per la verità ben figura qua vediamo proprio le maioni della passata stagione grazie al nostro Emanuele Bartolini con la Toscana in festa e insomma torneremo anche noi di zona gol poi a seguire le avventure dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze attenzione perché ovviamente il torneo delle regioni come del resto ormai tutto il mondo calcistico si è aperto anche alla sfera femminile si è fatto alla sfera femminile con la formazione di Simone Maccari esatto cogliamo l'occasione dai 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 cogliamo l'occasione di salutarlo perché io e te saremo la coppia diciamo al via della serata che organizza il diciamo l'associazione italiana allenatori di calcio di Firenze ovviamente con Cesare Calamai alla presidenza Massimo Venevieri con tanti amici non diciamoli tutti vi aspettiamo il 10 giugno poi vi diciamo dove però verranno premiati nell'occasione ovviamente tutti i diciamo grandi allenatori del calcio dilettante a partire proprio dal femminile esatto perché insomma il femminile ha dato grandi gioie alla Toscana proprio nel passato tornato delle regioni lo sta dando un moto d'orgoglio a tutta la regione anche attraverso i risultati della Serie A che ci ricordavi perché ricordiamo poi insomma la Serie A femminile ricade ancora sotto il calcio dilettante e quindi in qualche modo ecco siamo protagonisti noi del calcio dilettante anche di quei successi là successi che però ci parlano di grandi club appunto come Fiorentina e altre squadre di cui non voglio neanche fare il nome vero? No non li facciamo non li facciamo volevo concludere anche la precisazione perché appunto abbiamo detto oggi insomma siamo intimi siamo io e te e sicuramente insomma siamo bene perché ormai abbiamo un rapporto consolidato però volevo anche mettere il terzo nel mezzo l'altro e settimana prossima insomma possiamo già annunciarlo dai Dario abbiamo già pronto l'ospite che sarà proprio il presidente del Gras di Natto Maso Zepponi che ci racconterà il passaggio dall'eccellenza alla Serie D ovviamente tutto questo io invece guardo un attimo giù guardo giù e guardo a quello che succederà invece che è successo in promozione anzi diciamola così perché il Lammari ha pareggiato 0-0 contro il Montespertri l'Arcenese Luco 1-1 Giovanni Tortelli ti sto portando fortuna Maliseti 2-0 contro il Montespertri Canizzano si tra l'altro ha messo la foto durante l'addio di Pioli quella che gli ho fatto io insieme a Stefano Pioli se fosse un Pioliano Guardato Olimpia Pontremolese 3-2 per la Pontremolese rialce le tese 3-0 contro il Chiazzano si estese sconfitta 3-2 dal Montemurlo una sconfitta che non ci voleva il Viaccia che scade 3-0 contro il Pietrasanta Villa Basilica 2-0 sul Lampo classifica con Pontremolese 63 Lampo 60 Sestese 48 Maliseti 44 Montespertri 43 L'Arcenese 41 Viaccia 40 Villa Basilica 39 Rialce le tese 39 Luco 32 Calenzano 31 Quartolimpia 29 Lammari 29 Pietrasanta 27 Chiazzano 18 Giolli Montemurlo 18 andiamo invece a vedere insieme anche qual è la zona la questione playoff con Pontremolese 63 Lampo prima nei playoff a 60 Sestese 48 Maliseti 44 Montespertri 43 quindi attenzione alle forbici perché anche qui potrebbero tagliare fuori qualcuno chi invece non è tagliato fuori è quello che succede nella zona play out con Quartolata 29 Lammari 29 Pietrasanta 27 Chiazzano 18 con il Montemurlo che potrebbe riscalare ma anche lì attenzione a quello che potrebbe essere la forbice ora noi andiamo a vedere anche insieme la promozione Girone B eccola qua scusate io mille fogliettini foglietti foglioni cosa è successo il Dicomano ha vinto per 1 a 0 sul Terra Nova Traiana un Terra Nova Traiana che tra l'altro è stato sconfitto anche nella finale di Coppa Promozione quindi doppia beffa però è ancora in testa Asta 2 a 2 con il Frianzi Ovest Audax 3 fino a 0 a 0 con il Mazzola Val d'Arbia Chiantigiana 1 a 1 contro il Montalcino Marino Mercato Subbiano 1 a 1 contro l'Arno Castiglioni Laterina Nova Chiusi Bibiana 5 a 2 Ponta Seve vincente per 4 a 0 sul Cortona Camucia Soce Casentino 2 a 1 con la Castelnuovese la classifica vede Terra Nova 49 Ponta Seve 46 Mazzola 45 Chiantigiana 45 Dicomano 44 Soce Casentino 42 Cortona 41 Montalcino 40 Asta 40 Chiusi 36 Castelnuovese 36 Rufina 34 Ovest 33 Subbiano 25 Bibiana 17 Chiude la classifica Larno Castiglioni a 15 punti La classifica invece vede Terra Nova prima a 49 abbiamo detto a 46 c'è il Prontaseve primo dei playoff Mazzola 45 secondo dei playoff Chiantigiana 45 nei playoff Dicomano 44 quindi qui si giocano i playoff nei playoff invece vediamo Rufina 34 Firenze Ovest 33 Marino Mercato Subbiano 25 Bibiana 17 quindi occhio a una forbice possibile anche qui due giornate al termine invece noi scorriamo brevemente alla classifica e a quello che è successo nella promozione Girone Cicco Le Boschi che vince per 1 a 0 invece l'audace Galluzzo cade in casa contro il Pieve Fosciana classifica Pecciolese 52 Galluzzo 46 Perignano 46 Fosciana 46 Cascina 44 qui la zona playoff ovviamente Picchi 44 Sandonato 42 Le Boschi 41 poi tutto il resto a scendere Le Boschi giocherà tra due settimane ovviamente la prossima settimana contro il Venturina ultima in classifica chissà che Roberto Castorino non posso continuare la sua cavalcata questo è il girone della squadra che ha vinto la Coppa il Cascina sì che tra l'altro è a lottare per i playoff io però ti voglio portare sui convocati del trofeo delle regioni ovviamente guardo la rappresentativa Juniores perché è quella che più ci tocca come portieri Mattia Vellini e Tommaso Cristofoletti perché è il portiere del Fogliano nei difensori c'è D'Angelo della Lastrigiana Mordagà della Real Cerretese di questo girone Niccolò Paoli del Gandassi Andrea Pisaneschi che gioca nella Colligiana e Tommaso Testa Guzza che è un difensore della Sestesi a centrocampo c'è Lorenzo Benvenuti del Cogliopelli che gioca in Serie D Samuele Cassai della Forti Juventus che lo conosciamo Edoardo Cortonesi che ha giocato in tante squadre ma ora ha giocato al Gialli Montemurlo Del San Mancavenza Ahmed D'Avara Claudio Torzoni del Baldaccio Bruni ricordiamolo Torzoni che è la squadra green quella con più giovani Vicenzo Ficarra del Miosigna Alessandro Cattani del Grassina Nicola Solimano del Preolivorno Sorgenti e Mirko Lazzini del Montignoso tra attaccanti c'è Mazzoni delle Monti e Spertoli Andolfi dell'Armando Picchi altra squadra del Girone delle Boschi Dingozzi della Larcianese Vicky Lorenzo Del Fogliano ovviamente il commissario tecnico è Uberto Gatti come l'anno scorso Uberto Gatti che ha guidato poi lo ricordiamo la rappresentativa toscana anche nella Region's Cup che era l'evoluzione degli appuntamenti del Torneo delle Regioni ricordiamo chi vince per due elezioni consecutive il Torneo delle Regioni o vince lo spareggio con una delle ovviamente se in due anni vincano due squadre diverse e si spareggia e la squadra che vince va a partecipare alla Region's Cup la Toscana ha vinto il Torneo delle Regioni Juniors per due anni consecutivi ha partecipato alla Region's Cup ne parlammo anche con Elia Guidotti che fece proprio parte della formazione della squadra toscana che rappresentò l'Italia all'interno proprio di questo torneo dedicato a tutte le regioni d'Europa tutte le regioni d'Europa ovviamente andiamo a guardare anche la nostra regione prima categoria Girone C con ciò che è successo ovvero eccola qua la mia il mio schemettino Africo-Tetignanese 2-3 Atletico Calcio in Proletta Cerbaglia 1-1 Legnaia cade contro il Certaldo 1-0 un Certaldo lanciatissimo verso la testa della classifica Barberino-Valdelsa 1-0 sulla Grevigiana Fiasole Calcio che vince sul Novoli 4-2 Idal Club Incisa che batte il Firenze Sud per 2-1 Ponte Rodinella Marzocco che cade in casa contro il Cantinord per 3-2 Pelago che sconfaggia il San Clemente per 2-1 andiamo ovviamente a vedere anche la classifica insieme grazie a Manuele Bartolini con il Certaldo che vince che è primo a 68 punti ormai involato Incisa 62 Nuova Novoli 46 Settignanese 41 Impruneta 41 Rondinella 38 Firenze Sud 36 Fiasole 33 Pelago 33 Africo 33 Cantinord 33 Cerbaia 30 Barberino-Valdelsa 28 Grevigiana 28 Audaci e Legnaia 24 San Clemente 23 ovviamente guardando la classifica vediamo ovviamente il Certaldo sempre più in testa Incisa 62 staccatissimo quindi potrebbe non esserci anche qui una situazione di playoff Novoli 46 Settignanese 41 Impruneta 41 questa era la zona ipoteticamente playoff nei play out Cerbaia 30 Barberino-Valdelsa 28 Grevigiana 28 Legnaia 24 io ovviamente do uno sguardo brevemente anche al girone B perché cosa succede? anzi cosa è successo? Il Rinascita Doccia ha battuto 1-0 agli amici miei il Casalguide ha sconfitto il Candeglia in casa per 3-1 il Casalefattoria ha vinto 5-0 contro il San Nicolò Galcianese vincente per 2-0 sull'Oiolo il Lanciotto Campi è stato sconfitto 1-0 dal Monsummano il Malmantile fa sconfitto dal Prato 2000 per 4-1 la Piaggia vincono 3-1 sul Mezzana Vaianese vincente per 3-1 sul tavolo a calcio io però cosa vedo? vedo che il Lanciotto si sta salvando in campionato perché è penultimo a 27 punti e potrebbe salvarsi perché ha ancora due giornate da giocare scusate due giornate da giocare che sono i prossimi turni quello contro il tavolo a calcio che l'abbiamo detto ora e poi contro il Casalguide quindi due sfide abbordabili e dall'altra parte c'ha una coppa vinta contro il Manciano mi pare si chiama la squadra grossetana al bozzi ai rigori alla fine i ragazzi di Nello Bini ricordiamo lo storico presidente che continua a essere lì con diciamo incredibilmente da penultimi hanno vinto questa coppa perché poteva essere anzi potrebbe ancora essere una terza retrocessione consecutiva però una gioia un trofeo è stato messo nella bacheca del Lanciotto Campi io invece parlando di trofei voglio celebrare la vittoria ennesima del campionato da parte di Fabrizio Polloni che con il suo San Piero Assieve ce l'ha fatta e complice del pareggio della Gallia Nede sul campo del Cuesa Nuova è andata a vincere lo scudetto di seconda categoria girone M cosa è successo il Ferenzuale è stato fermato 1-1 in classe del club Mezzana la Querce 5-0 sul Sant'Agata Pietà 2004 Montepiano 2-2 Quercetto 3-1 Coiano Santa Lucia Rontese 4-1 sconfitta nel derby del cuore per Gianluca Torresi San Giusto Comeana Bisencio 3-1 per il Comeana San Piero Assieveo che batte il Barberino per 2-1 classifica che vede San Piero Assieveo 69 Gallianese 64 Comeana 52 Scarperia 50 Quercetto 47 Firenzola 46 Coiano 39 Club Mezzana 36 Rontese 36 Barberino 35 Pietà 35 Montepiano 30 Chiesa Nuova 28 La Querce 24 Sant'Agata 20 La Querce 12 In tutto questo ovviamente c'è da considerare il prossimo turno da giocare c'è da considerare che la Gallianese deve pensare anche a quello che sarà la sua Coppa ovviamente settimana prossima vi daremo il risultato di quella che è stata la soddisfazione potrebbe essere per gli uomini della frazione Barberinese ovviamente però noi guardiamo anche con un occhio di riguardo a quello che sarà il turno prossimo con Coiano Santa Lucia Calmi Mezzana Comeana-Bisenza-Pietà 2004 Firenzola-Scarperia Galenese-Quercetto La Querce-San-Pierassieve Montepiano-Rontese Spartaco-Barti-Barberino-San Giusto San Giusto-San Giusto-Chiesa Nuova quindi sarà un turno importante quello di il prossimo ne mancheranno due più che altro anche per la zona retrocessione chissà se la Galenese riuscirà a andare direttamente in prima categoria oppure passare dalla via dei pay-off e questo insomma sarà argomento di discussione nella prossima puntata ovviamente ci hai fatto proprio la cavalcata dalla serie D alla seconda categoria ricordandoci anche dei successi che sono arrivati in Coppa per Cascina e Lanciotto io torno sul torneo delle regioni perché insomma come avevamo detto volevamo annunciare anche quelli che poi saranno i gironi di questa manifestazione ricordando che per quanto riguarda il torneo di calcio a 11 la nostra rappresentativa sarà inserita nel girone B sia per quanto riguarda le gare dei juniores allievi e giovanissimi con Basilicata Trento e Umbria quindi un girone non poi così ostico per la Toscana che almeno nelle fasi iniziali evita Veneto e Lazio che sono due delle regioni più combattive ritrova l'Umbria la nostra regione che è stata protagonista appunto anche degli scontri con l'Umbria nella passata edizione del torneo delle regioni per quanto riguarda il femminile appunto abbiamo detto lo stesso girone che per i juniores allievi e giovanissimi cambia invece il girone quando andiamo a parlare di calcio a 5 perché nel calcio a 5 i juniores e la formazione femminile giocheranno nel girone C contro Trento Lazio e Puglia per quanto riguarda invece gli allievi sempre per quanto riguarda il calcio a 5 sarà Toscana Trento e Lazio la composizione a 3 del girone C mentre per quanto riguarda i giovanissimi sempre parlando di calcio a 5 si tornerà a giocare con Trento e Lazio ma diciamo la quarta di questo raggruppamento sarà la Calabria il girone sarà il girone B e questo insomma anche per fare un po' di chiarezza sugli appuntamenti che aspettano la nostra Toscana io però voglio parlare anche del girone H perché c'è qualcuno che ci dice che non ne parliamo mai ne parliamo di seconda la figurina mentre il Fulgor Castelfranco che ormai è già vincitore del campionato Alberetta 72 contro Ronda 2 a 1 Alberetta San Salvi sconfitta 5 a 2 proprio dalla Fulgor la Faelese vince 2 a 1 sul DLF la Florence pareggia 2 a 2 contro il Cubino Ludus flora 2.000 a 2 a 0 Molinense vincitore per 3 a 2 sul club sportivo Sangodenzo 3 a 0 sull'Atletico Fighini il San Polo invece batte il Trocedo squadra di un nostro caro amico Fulgor Castelfarco 68 Clare sportivo 55 Cubino 54 Londa 54 Ludus 54 Molinense 47 Sangodenzo 38 San Polo 35 Floria 35 Alberetta 34 Florence 30 DLF 30 Faelese 23 Atletico Fighini 17 Trocedo 16 punti E questo insomma per ricapitolare anche il Girone H di cui vogliamo parlare ne parleremo di più a questo punto anche se insomma i verdetti sembrano arrivare importante è già arrivato quantomeno per quanto riguarda la testa del Girone noi siamo davvero in chiusura per quanto riguarda l'appuntamento odierno di zona gol quindi ovviamente l'invito è quello di stare in nostra compagnia anche sabato prossimo Dario torniamo sempre sempre qui sempre insieme sempre con gli approfondimenti di Dario con il presidente grazie a Tommaso Zepponi che verrà a trovarci proprio nella prossima puntata io vi ricordo però anche che non vi dovete perdere assolutamente neanche gli appuntamenti con il pomeriggio sport di Teleiride e in particolar modo l'appuntamento del lunedì perché poi nella giornata del lunedì durante il pomeriggio sport vi offriamo sempre il match della Fiorentina femminile e quindi il match di Serie A che viene disputato dalle ragazze di Cincotta è davvero tutto Dario abbiamo finito anche quest'oggi ovviamente fischiamo la fine dei nostri 30 minuti perché non abbiamo 90 ma ne abbiamo 30 e basta finisce qui andiamo a berci un tel caldo e a prepararci ovviamente per la partita di questa sera della Savigno del Bene Scandici contro la più pomeriggia appuntamento a sabato prossimo ciao 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 Grazie per la visione!